Eccoci rientrati in studio, ora uno spazio dedicato a uno sport che sta sicuramente emergendo. Serve una mappa, serve del buon fiato, delle buone gambe, serve un po' il senso di orientamento, non stiamo parlando del turista metropolitano ma stiamo parlando di questo sport detto Orienteering o in italiano Sport Orientamento. Parliamo di questa disciplina oggi con due ospiti che andiamo subito a presentare. Il presidente della FISO, cioè della Federazione Italiana Sport Orientamento Mauro Gazzero. Buongiorno presidente. Buongiorno. E poi è la vice campionessa italiana di Corsa Orientamento Adrienne Brandi. Ciao Adrienne, benvenuta, complimenti. Torniamo a parlare di Orienteering ringraziando il responsabile della comunicazione e marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento Stefano Mappo per averci aiutato a rifinire questo spazio. Ma andiamo proprio a vedere che cos'è l'Orienteering e poi torniamo in studio. L'Orienteering si svolge all'aria aperta e per questo motivo è stato rinominato lo sport dei boschi. Negli anni sono state interessate centinaia di località turistiche, marine e montane, parchi naturali. Vi è pure la versione cittadina che si svolge nei centri storici. L'evento più popolare è quello di Venezia che vede al via oltre 5.000 concorrenti. In Italia esiste un circuito che vede coinvolti i più prestigiosi centri storici cittadini, luoghi ricchi di testimonianze artistiche e culturali. Si pratica indifferentemente in estati o in inverno, sui sentieri, nelle piste da sci o nelle stradine di campagna. Per praticare l'orientamento è necessario utilizzare un vestiario adeguato a seconda della scelta, corsa, trail o mountain bike e sci. Indispensabile è comunque avere con sé la bussola e l'immancabile cartina. Le gare si svolgono su terreni in precedenza mappati da un cartografo. I tracciati sono invece predisposti dalla figura tecnica del tracciatore. Esistono differenti percorsi predisposti per le varie categorie e in base all'abilità tecnica dei partecipanti. Il meccanismo è piuttosto intuitivo, visto che le mappe riportano fedelmente il territorio che ci si ritrova di fronte. Correre nel minor tempo possibile, da un punto di controllo all'altro, è la fase più divertente, stimolante e avvincente. Ogni tratto diventa una sfida differente in cui il concorrente deve saper tirare fuori il meglio di se stesso. Spesso capita di sbagliare nelle valutazioni, ma la cosa più importante è accorgersi dell'errore e porvi rimedio. Al termine della gara, i tracciatori rimuovono i punti di controllo lasciando il bosco senza danneggiamenti per l'ambiente. Ecco, Presidente, io in apertura ho detto che l'Orienteering è uno sport emergente. In realtà vanta tradizioni molto lontane. Chi l'ha portato in Italia? Come nasce l'Orienteering? L'Orienteering nasce ai primi del Novecento e nasce nei paesi scandinavi. Quindi questa specificità del bosco non poteva che trovare culla migliore. Arriva in Italia attorno al 1975 e fu Vladimir Pakl ad importarlo e a organizzare fra l'altro la prima gara proprio in Val di Noni, in Trentino. Possiamo definirlo, Presidente, uno sport completo? Perché comunque è un mix di forza muscolare, senso di orientamento, astuzia? Ma è sicuramente uno sport dove la componente specificamente motoria e fisiologica viene integrata dall'abilità di trovare la strada e quindi di interpretare al meglio la mappa. Prima mi avete disorientato e ho detto come andiamo a Torino? L'orientista ha bisogno dello strumento mappa per vedere la direzione che è già indicata. Perché ormai con i vari satellitari è semplice. Infatti. Mettiamola così. Senta, Presidente, perché è cresciuto così tanto? Cioè negli ultimi anni cosa c'è alla base di questa crescita, di questo sport? Ma credo proprio sia questa trasversalità e quindi la possibilità di sopperire a eccellenze di corsa o comunque di abilità prettamente fisiche anche con un'abilità mnemonica, di scelta di strategia perché comunque il raggiungimento di ogni singolo obiettivo per ogni atleta rappresenta delle scelte diverse quindi l'obiettivo viene anche raggiunto con traiettorie e con percorsi proprio diversi quindi alla fine vince chi sceglie anche la miglior strategia. Certo. Adrienne, come ti sei avvicinata tu all'orientista? Cos'è che ti ha affascinato? Sei una ragazza così giovane. Allora, io ho conosciuto questo sport grazie all'attività promozionale suoltati nelle scuole attività che è molto forte proprio per far conoscere questo sport ai giovanissimi e mi è piaciuto sin da subito la sensazione che si ha nel correre nel bosco sapere che dietro quel sasso troviamo la lanterna avere appunto un fascino un fascino, quindi nonostante tutti i sacrifici che stanno dietro uno sport che è faticoso Sì sì, dobbiamo avere una buona preparazione atletica una buona capacità tecnica ma comunque alla fine di ogni gara l'atleta è soddisfatto si è divertito proprio questa è la caratteristica peculiare che è uno sport adatto a tutti e tutti si divertono Quindi lo consiglieresti perché è adatto a tutti e perché è divertente quindi fa anche bene quindi insomma la miscela è giusta Ogni gara è una gara a sé quindi conosciamo posti nuovi permette di valorizzare moltissimo il territorio infatti molto spesso i comuni vogliono ospitare le nostre gare ed è uno sport adatto a tutte le età Senti Adriana, quanto dura in media una gara? e in percentuale quanto pesano testa e gambe su una gara intera? Vi sono diverse specialità le gare sprint durano intorno ai 15 minuti poi passiamo alle gare middle intorno ai 35 minuti e le gare long per gli uomini arrivano anche ad avere una durata dei 90 minuti e indubbiamente nelle categorie giovanili conta molto la tecnica, l'abilità nel muoversi in bosco mentre nelle categorie assolute sicuramente serve un connubio perfetto tra gambe e testa Senta Gazzero di corsa nei boschi o anche come abbiamo visto i mountain bike quindi con la bicicletta poi in montagna con gli scimi ma c'è anche una quarta specialità qual è? è una specialità dove la famosa componente agonistica intesa come fisiologica viene azzerata perché diventa un orientamento di precisione per cui in determinate piazzole l'atleta vede e riconosce sulla mappa una serie di obiettivi e quindi vince chi riesce a circostanziare l'obiettivo riportandolo in mappa con il minore errore una strategia proprio questa è interessante perché questo ha aperto una finestra importante dando la possibilità di partecipare ai normodotati ma anche diversamente abili ecco qua l'immagine vediamo ecco in questo caso viene proprio accompagnato l'atleta in una piazzola e da quella piazzola avrà modo di vedere due o tre obiettivi dovendo identificare nella mappa l'obiettivo specifico e quindi c'è un'approssimazione quindi anche rispetto a quello che diceva prima Adrienne è veramente uno sport per tutti è aperto a tutti ed è importante Adrienne chiedo a te proprio come atleta quali sono le caratteristiche psicofisiche che bisogna avere per speriamo insomma diventare un numero uno nell'orienteering e poi soprattutto abbiamo visto diversi tipi di circuito quali sono le differenze principali tra correre in un bosco e quelli invece magari in un percorso cittadino allora sicuramente un atleta ha bisogno di avere una buona abilità fisica per affrontare le gare quindi una velocità di base ma anche una resistenza quindi una resistenza proprio nel percorrere delle lunghe distanze e dei livelli notevoli notevoli e vi sono diverse tipologie di gara appunto le gare nel centro storico centri storici che possono essere più o meno intricati come per esempio svolgiamo un meeting a Venezia tutti gli anni e poi ci sono gare nel bosco gare in cui la componente tecnica per avale quindi l'orientamento cioè il senso di orientamento il senso di orientamento la scelta di percorso che un atleta deve effettuare per raggiungere i punti certo ci sono delle differenze chiaramente tra i vari circuiti esattamente tra quello cittadino e quello esatto nel parco cittadino per avale la velocità quindi sono gare più semplici ma corse ad un ritmo più elevato mentre nel bosco per avale la tecnica sempre assistita da una componente fisica importante senti Adrienne l'obiettivo dell'orienting è un po' cercare i punti sulla mappa però insomma mi viene da chiedere non è mai successo che qualcuno segue l'altro quello più bravo quello magari che vede un pochino più sicuro e si perde tutti dietro la descrizione dell'atleta di non seguire un atleta più bravo e più forte comunque vengono previsti delle variazioni la realtà hai ragione pure Cristina giusto certo vengono comunque previste delle variazioni all'interno del percorso per appunto per evitare il doping intellettuale diciamo così esatto che si segui qualcuno più furbo senti poi tra l'altro mentre spieghi questo rispondi a questa domanda che ti ho fatto fai vedere anche tutti i vari strumenti che abbiamo qua abbiamo diverse attrezzature questa è una bussola una bussola a dito che ci permette appunto di orientare la carta poi abbiamo un chip elettronico che ci permette di segnare il passaggio ai vari punti noi in bosco troviamo questo è l'oggetto che noi cerchiamo in caso di qualche problema è un oggetto di difesa quindi voi trovate questo ogni volta che arrivate nel punto esatto dove si trovano il paletto che si chiamano allora questo si chiama lanterna queste lanterne sulle lanterne vi è un codice un codice che permette appunto all'atleta di riconoscere che è la tua che è la nostra lanterna certo l'atleta all'atleta viene appunto data una descrizione punti dove vi è scritto il codice e la descrizione di dove si trova il nostro oggetto e quindi attraverso appunto questo chip elettronico l'atleta segna il passaggio dovete funzionare funzionare una volta arrivato all'avvio scariche dai dati ok perfetto perché tu hai fatto orientire hai già acquisito io ho fatto qualche telecronaca e mi sono trovata complimenti allora abbiamo visto gli strumenti diciamo gli strumenti di gara presidente quando secondo lei riusciremo a vedere questo sport che sta crescendo tra l'altro tantissimo anche nelle scuole perché mi sembra sia il quarto sport inserito più praticato inserito nelle scuole secondo lei riusciremo a portare l'orientiling alle olimpiadi? ma noi ci stiamo lavorando in questo caso non dipende strettamente dalla nostra federazione è un contesto più ampio che va condiviso in questo caso con la federazione internazionale siamo molto vicini al numero previsto dal CIO che prevede un numero di partecipanti di nazioni praticanti di 80 e soprattutto per quanto riguarda l'Italia stiamo lavorando come si diceva moltissimo nella scuola perché è il bacino anche dove puoi aumentare i numeri fra l'altro lei dove lo collocherebbe però? l'olimpiade invernale visto che c'è anche lo sci oppure non è stiva eliminando lo sci perché se no nell'invernale lei potrebbe tranquillamente fare sia la corsa sia la bicicletta sia la montagna quella è stiva no? certo però in quello estivo diciamo che prenderebbe spazio quello che è un po' la regina dell'Orienteering che è la corsa nasce come corsa togliete però comunque una parte ci colleghiamo caro Vincenzo? no non ci colleghiamo grazie non c'è nessun collegamento andiamo avanti a parlare di Orienteering Presidente le chiedo siamo in chiusura però è giusto sapere insomma abbiamo detto nelle scuole ma per chi volesse saperne di più voi avete un sito c'è chiaramente un sito e poi tutta un'organizzazione territoriale per cui noi chiaramente abbiamo dei rapporti diretti nelle varie regioni il sito è fiso.it noi abbiamo chiaramente come dicevo vari delegati in tutte le regioni ormai stiamo proponendo fra l'altro parlando di scuola proprio in questi giorni si sta definendo quella che sarà anche la fase nazionale dei giochi sportivi studenteschi e quindi a maggior ragione insomma siamo come sempre proiettati a livello di età che fascia prende l'Orienteering sia dai bambini che abbiamo per lei deve sapere perché Cristina ha dei figli come me più già la portarei a vedere la schermata perché li porta a vedere gli spazi quindi qui anche interessate in maniera carina e corretta interessato anche io giustamente dall'età più giovane ma i ragazzi cominciano noi facciamo già delle proposte in terza elementare perché fra l'altro nel percorso curricolare della scuola in terza ormai i ragazzini affrontano già queste tematiche di geografia detto questo poi per il limite d'età se noi arriviamo in Scandinavia ci sono degli arzilli novantenni che si cimentano tranquillamente perché lo hanno proprio nel sangue senti Adrienne tu quante ore ti alleni a settimana al giorno io mi alleno tutti i giorni cerco di conciliare l'attività sportiva con l'attività di studio scolastica ma fai il lavoro più di palestra o di no corsa mezzo fondo quindi mi alleno in pista e cerco di andare a correre in bosco quando ne ho l'opportunità certo perché cambiano anche chiaramente le pendenze serve anche quello credo per il tipo di senta Presidente è uno sport adatto a tutti diciamo a tutta l'età l'abbiamo accennato prima ma adatto anche ai diversamente abili quindi ai portatori di handicap quindi vogliamo spiegare in che modo ma abbiamo come dicevamo il trailo di cui abbiamo visto prima qualche immagine e in questo senso fra l'altro abbiamo avviato una importante collaborazione proprio col CIP perché è il nostro interlocutore privilegiato proprio per questo tipo di attività insomma dicevamo di precisione certo prossimi appuntamenti con l'orientini Presidente le gare ma noi abbiamo l'imminente apertura della stagione adesso in alto Trentino a Fiera di Primiero e poi avremo una serie di appuntamenti fino a novembre fra l'altro con dei campionati italiani proprio ospitati qui a Roma sui monti Montelivata su Biaco quindi insomma con l'occasione per la capitale l'appuntamento è sul monte Livata Adrienne per quanto ti riguarda parteciperai a tutte queste gare certamente certamente i campionati italiani sono l'obiettivo principale e poi le gare di Coppa Italia certo allora in bocca al lupo sia ad Adrienne Brandi che anche al presidente presidente Gazzarro in bocca al lupo mi raccomando che cresca di divulgare il più possibile io approfitto visto della passione di Cristina e così poi vi omaggio presto qua grazie grazie facciamo così che è meglio attritti la camera qui a Vincenzo con il nostro e allora omaggio grazie 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 in bocca al lupo in modo che così po' con i ragazzini avvicinarsi finalmente anch'io ho un Gagliardetto perché qui tutti danno i Gagliardetti a Marco Lobrigido Marco Mazzotti a me no a me veramente non li da nessuno eccolo qui eccolo qui grazie grazie e allora allora TG Sport ah no Newsbreak perdono dice 30 grazie ancora ai nostri ospiti a presto grazie 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 grazie